Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla lettera di intenti firmata ieri al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma per condurre uno studio congiunto di fattibilità per la realizzazione di una base logistica di gas naturale liquefatto a Gela. L'accordo è stato siglato tra il Mise, la regione siciliana, l'amministrazione comunale di Gela e il Colosso Industriale. Firmata ieri al Ministero dello Sviluppo Economico una lettera di intenti per condurre uno studio congiunto di fattibilità per la realizzazione di una base logistica di gas naturale liquefatto a Gela tra il Mise, la regione sicilia, l'amministrazione comunale di Gela ed Eni come proseguimento delle attività incluse nel protocollo d'intesa per la regionese. Nell'ambito delle iniziative indicate nel protocollo del 6 novembre del 2014, Eni ha completato una prima analisi di fattibilità nel dicembre scorso e in seguito ai risultati emersi è stata concordata l'apertura di un tavolo di lavoro congiunto della durata di 6 mesi con le istituzioni nazionali, regionali e locali volto a condurre una verifica più approfondita dell'opportunità progettuale articolata su quattro linee di studio distinte commerciale, tecnico-realizzativa, logistico-operativa e regolatoria autorizzativa. Le attività della lettera di intenti saranno sviluppate congiuntamente da uno gruppo di lavoro composto da tutte le parti coinvolte e Eni metterà a disposizione l'esperienza e le proprie competenze tecniche e commerciali in materia di IGNL e grazie al contributo e al ruolo attivo delle istituzioni regionali e comunali sarà possibile investigare il reale interesse e il possibile coinvolgimento di soggetti terzi nello sviluppo e completamento della catena del gas naturale liquefatto. Inoltre, in un contesto normativo nuovo a livello nazionale, la partecipazione al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico consentirà di monitorare il quadro regolatorio di riferimento e di individuare il percorso autorizzativo per la realizzazione del progetto. Ieri a Roma, per l'amministrazione comunale, erano presenti il sindaco Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano. C'erano anche il viceministro Teresa Belanova, il vicepresidente della regione siciliana Mariela Lobello e Luigi Ciarrocchi di Eni. Tra le ipotesi sul tavolo vi è un'infrastruttura logistica di ricezione, stoccaggio e distribuzione o un impianto di liquidazione anche alla luce della gestione e della distribuzione più efficiente ed affidabile. La lettera di intenti, sottoscritta ieri, passa anche per l'individuazione di possibili finanziamenti o di agevolazioni finalizzate a rendere più competitivo il IGNL distribuito da Gela. Tra i canali pubblici si guarda il Fondo Europeo per gli investimenti strategici. Concluso positivamente questo iter di sei mesi, ha detto Simone Siciliano, che definirà il potenziale di mercato ed individuerà gli operatori industriali e commerciali che in Sicilia sono interessati a partecipare all'iniziativa vincolati alla ritiro del protocollo a condizioni prestabilite, si passerà alla cosiddetta fase 2. Si tratta cioè della fase esecutiva in cui saranno chiusi gli accordi commerciali, sarà completata l'ingegneria e saranno condivise le autorizzazioni per l'esecuzione del progetto. Intanto il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle stigmatizza l'operato della giunta comunale di Gela accusata di non avere parlato alle famiglie che vivono il dramma dei malati di tumore e di non avere detto nulla agli agricoltori che vedono i campi devastati dagli inquinanti. Ieri al tribunale di Gela si è aperto il processo contro l'ENI per disastro ambientale innominato. L'udienza è stata rinviata. Chiediamo giustizia senza volere altro da ENI che non sia il risanamento ambientale di la ristoro dei danni che ha causato a questa città. Lo chiediamo a nome di tutta la città. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Gela interviene in merito all'apertura del processo per disastro ambientale innominato la cui prima udienza ieri al tribunale è stata rinviata per assenza del giudice nominato. L'accusa della procura è quella che chi ha gestito a diversi livelli la raffineria ha inquinato l'aria, le falde acquifere, il suolo e il mare determinando un disastro ambientale di proporzioni in mani. Ieri Leni si è presentata con i suoi avvocati, tutto a porte chiuse dietro le vetrate del tribunale. Fuori la città sconosceva quello che stava accadendo, rimarcano Grillini. Non sapeva che per la prima volta nella storia di Gela il colosso petrolifero veniva accusato di un reato di gravissima portata e non lo sapeva perché l'amministrazione è rimasta silente e scomparsa nel buio senza rilasciare neanche una dichiarazione. Non ha parlato alle famiglie che vivono il dramma dei malati di tumore, non ha detto nulla agli agricoltori che vedono i campi devastati dagli inquinanti, non ha alzato la voce contro coloro i quali hanno presumibilmente devastato l'intero territorio giarese. L'amministrazione silente si è costituita parte civile ma quello era il minimo davanti ad un processo che è di portata epocale. La città, dicono i pentastellati, deve sapere quello di cui sono accusati i vertici della raffineria, lo deve sapere per capire che accettare il lavoro senza pensare alla salute significa uccidere tutti per generazioni. Il ricatto occupazionale ci ha portato ad avere discariche di idrocarburi a cielo aperto, sversamenti in mare, falde e inquinate. Ma non è vero che è meglio morire di cancro che di fame perché il cancro ti divora lento mentre la rischio di avere fame ti spinge a vivere, a trovare soluzioni che riportino in vita il territorio. E mentre noi chiediamo giustizia, continua la nota del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, mentre la raffineria è sotto processo a Gela, l'amministrazione comunale, anziché sollevare un caso mediatico per questo processo, si siede al tavolo con Eni e sottoscrive proprio con Eni una lettera di intenti per avviare un tavolo tecnico affinché, dove oggi sorgono i ruderi di un disastro passato, possano sorgere i presupposti per un nuovo investimento industriale, forse anche per un nuovo disastro. Un bel sistema di liquifazione del GNL, in accordo con la stessa azienda che, secondo la Procura, si regge nella nota, ci ha devastati. Certe scelte sono segnali, sono azioni che indicano quanto l'amministrazione tenga davvero al futuro dei propri cittadini. Noi non ci stiamo. Il Movimento 5 Stelle vuole un futuro nuovo e diverso per Gela, non crede alle fantasiose proposte del vice sindaco, al suo GNL senza bonifiche concrete, ai accordi continui con chi ci ha offeso. Gela ha iniziato la sua battaglia contro un colosso che, secondo gli atti degli inquirenti, l'ha avvelenata e i cittadini devono saperlo. L'amministrazione, invece, continua a sottoscrivere fantasiosi e improbabili accordi con quel colosso ed anche questo deve essere messo a conoscenza dei cittadini, chiudono i pentastellati. Stavano scardinando con un escavatore il Bancomat della Banca Intesa San Paolo di Via Rossini a Riesi quando sono stati sorpresi dai carabinieri e sono scappati e caccia all'uomo. L'episodio è venuto la scorsa notte intorno alle 2.30. Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare i militari dell'arma dopo aver udito dei rumori. I malviventi hanno abbandonato sul posto l'escavatore. Sono state requisite le immagini della sistema di videosorveglianza dell'Istituto Bancario. E adesso torniamo ad occuparci della vicenda che interessa la paventata soppressione del pronto soccorso degli ospedali di Niscemi e di Piazza Almerina. Sostegno alle due comunità arriva dal Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. È molto pericoloso sopprimere il pronto soccorso dell'ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi e quello di Piazza Almerina. Due centri molto popolosi. Il primo è insediato all'interno dell'area di alto rischio ambientale a causa della vigilanza dello stabilimento di Gela e del MUOS, quindi beneficiario assieme a Gela, di normative speciali in materia di tutela sanitaria ospedaliera dei propri cittadini. Il secondo, naturalmente, ha un flusso turistico di oltre 300.000 presenze annue e dunque soggetto ad affrontare emergenze di ogni tipo. Il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese fa sentire la sua voce in merito all'annunciata riforma sanitaria che, sottolinea, non tiene conto delle variazioni territoriali penalizzando Niscemi e Piazza Almerina. Una bozza di piano di riforma sanitaria o quello regionale che non prevede le variazioni territoriali. Gela, Piazza Almerina e Niscemi hanno già deciso di passare alla città metropolitana di Catania e questo la Regione non può né ignorarlo né impedirlo. Nonostante abbiano già votato in Parlamento regionale, questo procedimento andrà ugualmente avanti fino al completamento del passaggio. Quindi questo piano nasce già male per questo motivo. Poi, inoltre, punire città popolose come Niscemi e Piazza Almerina, sottolineando loro il pronto soccorso, quindi il preludio della chiusura dell'intero ospedale, mortifica queste popolazioni. Non è ammissibile che queste popolazioni non possano accedere ai servizi sanitari nelle loro città, non parliamo appunto di paesini di 1.000, 2.000 o 3.000 abitanti, ma parliamo di città che superano ampiamente 20.000 abitanti. Questo piano sanitario va rivisto soprattutto in prospettiva del passaggio di queste città alla città metropolitana di Catania e quindi all'interno dell'area sud una rimodulazione equa e adatta ai bisogni dei cittadini va fatta. Va fatta tenendo in considerazione tutte le specificità dei vari comuni. Siamo solidali con queste comunità e siamo disponibili a partecipare insieme a loro a qualsiasi iniziativa che loro ritengono opportuno di fare. Noi siamo a loro disposizione. Non ci può essere sviluppo se tutte le comunità non crescono armonicamente. Sì, va bene che ci sia un ospedale a gel, ma è pure normale, giusto direi o sarei dire che queste comunità abbiano le cure nei propri territori, almeno l'accesso iniziale, il pronto soccorso appunto e i reparti che necessitano in quelle comunità. Cento anni, è nata il 14 settembre del 1916 a Ravanusa in provincia di Agrigento. Lei è Giuseppa Cipriano. Ieri, tra l'affetto dei nipoti e del personale della residenza assistita a caposoprano di Gela, la nonnina è stata festeggiata con tanto di torta. Una bella festa e un'allegria per ricordare l'avvenuto traguardo di un secolo di vita. Giuseppa Cipriano è ricoverata presso la struttura di Via Palazzi a seguito di una frattura al femore operata all'ospedale Vittorio Emanuele. Adesso sta svolgendo un intenso piano terapeutico. Chiedono di verificare l'esatto montare dei debiti conoscere responsabili del motivo per cui dal 2010 ad oggi non sono stati riconosciuti e pagati. Loro sono i componenti della terza commissione bilancio e programmazione che hanno incontrato il commissario dell'Ato CL2 Giuseppe Vanebianco, Giorgio Vindigni, consulente per l'Ato Ambiente CL2 e Nunzio Giardino, presidente del collegio sindacale dell'Ato. Il presidente della commissione, Salvatore Scerra, e i componenti Simone Morgana, Vincenzo Cirignotta, Sandra Bennici e Romina Morselli hanno sottolineato come ad oggi non esiste una certificazione del debito delle partecipate e non vi è contezza dei debiti delle stesse. I componenti dell'Ato hanno comunicato il debito accertato al 31 dicembre 2015 che è di circa 13 milioni di euro, sottolineando che ad oggi ci sono solo contenziosi. Scerra ha chiesto chiarimenti sull'esistenza di crediti da parte del Comune nei confronti dell'Ato, circa 2 milioni di euro sulla componente di mitigazione ambientale che è compresa nella tariffa di conferimento e sulla proprietà della discarica di impazzo. L'Ato, a riverito Scerra, ha fornito chiarimenti sui debiti del Comune non ancora riconosciuti ma non basta. Chiederò un incontro al dirigente del settore per capire perché dal 2010 ad oggi queste somme non sono state accertate, riscontrate e riconosciute. Sulla stessa linea i componenti Bennici e Morgana. Inoltre il Comune è socio e come tale partecipa all'approvazione del bilancio, spiegano i componenti della Commissione Cidignotta e Morselli. Ad oggi non si capisce come mai il Comune non abbia riscontrato la copiosa corrispondenza annuale e periodica dell'Ato. Sorge il sospetto che il problema non vuole essere affrontato ma si cerca di prendere tempo e rinviarlo agli anni successivi. Dalla 17 al 25 settembre prossimi si terrà Match It Now, la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. L'evento rientra nella cornice della giornata mondiale del donatore di midollo osseo che sarà celebrata in tutto il mondo tra due giorni. Anche Gela scende in piazza sabato 24 settembre, appuntamento in Viale Corte Maggiore a Machitella con la Corcia Rossa, i Vipo Clown di Caltanissetta, i volontari di Admo Gela ed anche i volontari dell'associazione Ado Cess Sicilia Ollus. Ricordiamo l'appuntamento è nella zona dei Muretti. È previsto per sabato 17 settembre alle 18 nella sala Don Pino Puglisi della Casa del Volontariato di Gela in via Ossidiana il convegno Dignità, Sovranità e Moneta promosso dalla Casa del Volontariato, dal CESVOP, dalle associazioni Formico-Perosa, Servirti, Fenice dal Sud, Gela Famiglia, Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo, Sete di Giustizia e Qui Europa. Relazioneranno Sergio Basile, presidente di Sete di Giustizia e direttore di Qui Europa e Nicola Arena, componente della Scuola di Studi Giuridici e Monetari Giacinto Auriti. Il convegno sarà moderato da Rocco Pardo dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela. Per l'occasione sarà presente anche il vescovo di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisara. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, Fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Eccoci in seconda parte del telegiornale, mercoledì 12 ottobre, l'ultimo giorno utile per presentare all'ufficio di protocollo generale della Comune di Gera l'istanza per ottenere l'abbonamento e il contributo per il trasporto scolastico. Nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primaria e secondaria residenti a Femmina Morta, Roccazzelle e Borgo Manfria. Termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado. L'avviso, il formulario e la documentazione da produrre, ha detto l'assessore ai servizi sociali, Licia Bela, si possono scaricare dal sito internet del Comune, mentre per maggiori informazioni gli uffici del mio settore, dice Licia Bela, sono a disposizione dei cittadini. In 1946 ha segnato la storia del paese con la nascita della Repubblica, ma anche la storia dell'Ordine dei Medici o Dontoiatri di Caltanissetta, sciolto nel 1935 dal regime fascista ricostituito in quell'anno. Una duplice ricorrenza che l'Ordine dei Medici e la Prefettura hanno voluto festeggiare al Teatro Regina Margherita. 70 anni in due, il titolo dell'evento per ribadire il valore della libertà, dell'uguale dignità di ogni persona e della solidarietà, pilastri su cui si fonda la nazione. In effetti è un ordine, come ha detto lei, importante, non tanto per quello che rappresenta per noi e rappresenta moltissimo, ma quanto perché rappresenta una assoluta garanzia a tutela della salute dei cittadini, perché attraverso l'Ordine tutti noi medici siamo monitorati per dare la salute a chi ne ha di bisogno. Sono molto contenta di vedere anche stasera dei ragazzi, proprio perché non bisogna mai dimenticare che ai ragazzi vanno trasmesse le nostre esperienze, esperienze che vengono da lontano, appunto dal 1946 e che pertanto diciamo loro così hanno modo di farle proprie e continuarle a portare avanti. Per l'occasione è stato anche presentato il libro A brucia metterra di Giovanni Di Lorenzo, chirurgo con la passione della fotografia, istantanee di un viaggio arricchite da didascalie curate dall'autore teatrale Michele Albano. I testi di Michele Albano raccontano bene le immagini scattate negli anni di questa nostra Sicilia che brucia sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista atmosferico, da un punto di vista sentimentale. Noi siamo caldi, noi siamo esagerati in tutto e quindi il nostro cuore brucia come brucia la terra in estate. Ho provato a scrivere dei micro racconti, quindi un genere letterario particolare, micro racconti composti da una frase, più raramente due frasi, che provano a spostare fisicamente ed emozionalmente l'osservatore dall'immagine magistralmente scattata e composta da Giovanni per portarlo oltre il visibile a cercare altro. Le foto sono invece evocative, sono foto profondamente radicate nella immagine della Sicilia ma potrebbero essere espressione di qualunque altro continente perché sono foto di luoghi dell'anima che però lasciano tanto di non detto, di possibile, di immaginabile e i testi di Michele Albano sviluppano una delle piste innumerevoli di questa possibilità e quindi la fotografia non è più qualcosa di oggettivo ma è una pista per l'immaginazione, per l'interpretazione e a me è sembrato molto interessante che Albano abbia voluto sviluppare questo tema. Ultimo appuntamento con la rassegna dell'Edith Stamp promossa dal direttore artistico Francesco Castellana con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Tranito alla produzione tecnica. Mercoledì 21 settembre alle 22 nel quartiere Macchitella si esibirà Evelyn Leone accompagnata da Angelo Di Marco. Risate assicurate domani sera alle 21 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Il Giardino delle Muse porterà in scena la commedia Allacciare le cinture di sicurezza del trio Anna Marchesini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. La commedia sarà diretta ed interpretata da Ersilia Spadea, Daniele Mezzasalma e Davide Bonincontro. L'iniziativa è patrocinata dal Comune. Abbiamo scelto di rappresentare questa commedia brillante Allacciare le cinture di sicurezza per ricordare Anna Marchesini che ci ha lasciato poco più di un mese fa perché comunque siamo cresciuti, almeno io personalmente sono cresciuta con le loro gag teatrali e televisive. L'ingresso è completamente gratuito e lo spettacolo si terrà al Teatro Eschilo alle ore 21, giorno 16 settembre, cioè domani. Avete lavorato tanto per questa iniziativa? Abbastanza, abbiamo lavorato abbastanza e molto duramente. Nel nostro piccolo stiamo tentando di divertire la gente così come facevano loro il trio. Sono tante le iniziative messe in campo dal Giardino delle Muse di Gela. A dicembre abbiamo fatto uno spettacolo basato su A Christmas Carol di Dickens, in canto di Natale, lo abbiamo portato, lo riproporremo anche quest'anno, sempre per le festività natalizie. Abbiamo portato anche uno spettacolo di Shakespeare, con una versione modificata, più sicilianizzante, perché appunto c'è questa versione che si dice che Shakespeare sia in realtà siciliano. Poi comunque siamo molto attivi nel campo sia teatrale che nel campo musicale, abbiamo anche altri eventi, insomma ci diamo da fare. E questa sera alle 21 l'Associazione Culturale Sergio di Dio sarà di scena nel piazzale della chiesa San Giacomo a Gela. Sono previsti spettacoli di musica e canti popolari. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.